È iniziata la riunione del Consiglio dei Ministri da cui dovrebbe uscire il via libera al decreto legge sull'Ilva per consentire la ripresa della produzione nello stabilimento di Taranto e conciliare la tutela dell'occupazione e dell'ambiente e il rispetto della magistratura, come auspica il Premier Mario Monti ieri al tavolo con le parti sociali, l'azienda e gli enti locali. Il decreto del Governo punta su un'autorizzazione integrata ambientale con forza di legge e permette la ripresa dell'attività produttiva e commerciale dell'Ilva, sospendendo di fatto i provvedimenti di sequestro incompatibili con l'AIA. Il dispositivo prevede un garante per vigilare sull'attuazione del decreto legge e la responsabilità e gestione dello stabilimento in capo all'Ilva. Sono questi i punti principali della bozza che potrebbe salvare 12.000 dipendenti di Taranto e i lavoratori dell'indotto. Ieri sera, durante la trasmissione Servizio Pubblico, il Ministro Clini ha fatto intendere che il Governo è pronto ad andare avanti anche senza la famiglia Riva, proprietaria dell'azienda. Il Ministro ha spiegato che il sito, per essere risanato, deve continuare ad essere gestito industrialmente. Iriva hanno detto che sono pronti a farlo. Se non sono in grado, dobbiamo farci carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva e il risanamento.